Questo video riguarda i migliori tre sacchi a pelo per il campeggio. Il vincitore della qualità nel nostro sacchi a pelo per il campeggio va al Besport sacco a pelo. Materiale di alta qualità. Il tessuto è in poliestere antistrappo 210T, copertura impermeabile resistente e antistrappo. Inoltre, la nostra imbottitura è realizzata al 100% in cotone. Il design della busta con cappuccio può essere utilizzato come trapunta, caldo e traspirante. Il sacco a pelo può essere completamente aperto per diventare un comodo strato. Facile da comprimere. Il sacco a pelo può essere facilmente compresso e riposto nel sacco e occupa pochissimo spazio. È facile viaggiare all'aperto e non ha molto spazio. Comodo, leggero, adatto a tutti i tipi di campeggio outdoor estivo e invernale. Può essere utilizzato per il campeggio, la notte, l'escursionismo, i festival o qualsiasi altra occasione che necessiti di stare al caldo. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il tom su sacco a pelo. Sacco a pelo matrimoniale 220 x 152 cm. Sacco a pelo doppio che può essere diviso in due sacchi a pelo semplice. Il sacco a pelo più spesso può sopportare una temperatura di meno 5 gradi Celsius. La temperatura limite è di meno 5 gradi Celsius e 10 gradi Celsius. Rivestimento in poliestere 190 T e fodera in tessuto spazzolato. 250 g su metri quadrati fibre cave all'interno del sacco a pelo più spesso e 200 g su metri quadrati fibre cave nel sacco a pelo sottile, confortevole e mantiene al caldo. Ci sono 4 tiranti per scivolare. È molto pratico da scivolare su ogni lato. È leggero e abbastanza compatto. Potete piegarlo e metterlo nella borsa di stoccaggio. Vi offriamo due cuscini per rilassare la testa e il collo, in modo che possiate dormire bene in campeggio. Il vincitore della performance premio nel sacchi a pelo per il campeggio è il FEA Active Fodera. Disegnato da appassionati di outdoor, il pile del sacco a pelo è stato creato per il camperista, l'escursionista e il viaggiatore che cercano di risparmiare spazio e peso nel loro zaino da viaggio. Il rivestimento in pile del sacco a pelo FEA Active è fatto con materiali isolanti morbidi e delicati sulla pelle. Il suo cappuccio offre maggiore protezione e comfort per l'avventura. La fodera del sacco a pelo in pile è costruita per fornire comfort e calore durante le avventurose notti all'aperto. Il corpo di questo sacco a pelo in pile è lungo 189,9 x 29,9 cm nel cappuccio e largo 77,9 cm. La coperta da campeggio è l'accessorio perfetto per la tua tenda Y letto da campeggio. Questo pile è un compagno ideale per escursioni, viaggi su strada e come sacco a pelo emergenza. Quando ti avventuri con la coperta da viaggio Vernon, il corpo è protetto dalla testa ai piedi, quindi è altamente raccomandato usare questo sacco letto in ostelli. Ottimo regalo di Natale e di compleanno per chi ama l'escursionismo, il campeggio, i viaggi, la pesca, la caccia, l'arrampicata, il trekking. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.